No, secondo me non possiamo permetterci di fare un primo tempo il genere se vogliamo tirarci fuori da questo momento che stiamo attraversando, ma la squadra sta avendo una netta crescita dal punto di vista della compattezza e penso che oggi al primo tempo dovevamo fare molto di più, ma capisco anche che magari le energie non potevano essere quelle delle partite precedenti, essendo la terza partita in sei giorni, ma non è una scusa, potevamo e dovevamo anche essere un pochino più attivi mentalmente, rischiare anche un po' di personalità le giocate e anche alzare delle volte un pochino più il prezzo.